Salve, mi chiamo Alberto Lovisi, ringrazio il Festival Internazionale della Poesia di Milano per l'Unuito e vi faccio ascoltare questo mio brano dal titolo Quel giorno arriverà. Ci sono giorni con chiuso in casa e non so più che fare. In strada non c'è più nessuno, tutto è più reale. Dal balcone il canto degli uccellini che sembrano i violini. Nella mente è rimasto il tuo sorriso, chissà quando vedrò. Passerà, lo so che passerà, sarà oggi e ne domani, ma so che passerà. La città si è fermata di colpo, non vuole più andare. Anche il vento si è fermato di colpo, è stanco di soffiare. Tutti dicono che state in casa, io penso che non ce l'ha. Anche il vento si è fermato di colpo, è stanco di soffiare. Grazie.